La via regia nella filosofia, diceva Loegel, sta nel pensare con la propria testa. Segnatamente aggiungiamo noi nel pensare altrimenti rispetto al coro virtuoso del politicamente corretto che poi anche sempre ineludibilmente uneticamente corrotto. Non v'è altra via se non quella del pensiero critico, non omologato e per menti a sovranità non limitata. La prima realtà che occorre risovranizzare è in effetti il nostro immaginario, la nostra capacità di pensare, la nostra testa, la quale sempre più spesso preda di quel si dice, diremmo con Heidegger, che non è altro poi che l'organizzazione e la disposizione planetaria gestita millimetricamente dai padroni del discorso e dagli architetti delle sovrastrutture. Bene, occorre pensare con la nostra testa, pensare altrimenti. Tutto il resto è chiacchiera preordinata e coessenziale al nuovo ordine simbolico, il quale ordine simbolico egemonico non fa altro che glorificare, sub specie mentis, il nuovo ordine mondiale classista. Detto altrimenti, il nuovo ordine mondiale, quale si è venuto istituendo dopo il 1989, produce a propria immagine e somiglianza un nuovo ordine mentale che altro non è se non il nuovo ordine mondiale stesso proiettato nelle nostre menti, tale dunque da modellarle di modo che noi accettiamo supinamente l'ordine vigente anziché rivoltarci in nome di futuri redenti e altrimenti strutturati. Con ripetitività ossessiva, degna del peggior mantra, i padroni del discorso ci ripetono sempre e solo la medesima storia, sempre la medesima narrazione, forse in ossequio al noto detto di quel criminale nazista che ebbe a sostenere che una menzogna ripetuta all'infinito passa poi ineludibilmente per verità presso il grande pubblico. Ecco dunque che con commozione lacrimevole ci ripetono a tambur battente che i migranti ci aiutano perché gli italiani certi lavori non li fanno più. Ci soccorrono i migranti perché in certe condizioni gli italiani notoriamente pelandroni avvezzi a campare al di sopra delle proprie possibilità non sanno più lavorare. Bene, anche in questo, nello storytelling egemonico, i migranti figurano come un modello da assumere in modo irriflesso e senza possibile discussione critica. Essi sono una risorsa, come vergognosamente li appella la neolingua gravida di potere. Proviamo allora a pensare altrimenti e chiediamoci, ebbene, quali sono questi lavori che gli italiani non vogliono più fare? Quali sono i salari previsti per questi lavori che gli italiani non accettano più? Di cosa stiamo parlando in concreto? Ebbene sì, diciamolo aperti sverbis e senza perifrasi. Dopo la gloriosa e oggi del tutto obliata stagione delle lotte di classe e delle conquiste salariali, gli italiani certi lavori non vogliono più farli. O forse non li facevano più, visto che con le nuove tendenze del lavoro precarizzato e super sfruttato modello Expo di Milano stanno tornando a farli. Non li facevano più quei lavori, per fortuna aggiungerei. Lo sfruttamento nelle sue forme più brutali era stato parzialmente arginato grazie alle lotte di classe, grazie alle conquiste salariali, grazie all'ordine welfareistico garantito dall'interventismo keynesiano di uno stato sovrano e nazionale che poteva fare spesa pubblica, che poteva tenere conto anche delle classi più deboli. Da questo punto di vista il capitalismo anni 60 e 70 era certo una prosa reificante all'insegna dello sfruttamento e dell'alienazione, ma era pur sempre mitigato dal keynesismo e dalle lotte di classe. I diritti che conoscevamo erano scaturiti dalle pratiche del conflitto e dall'organizzazione sindacale di una classe operaia che, se anche non era stata capace di superare il capitalismo per via rivoluzionaria, non di meno ne aveva moderato e temperato le tendenze. L'aveva reso un capitalismo con un compromesso tra Stato e mercato, un capitalismo temperato in senso keynesiano. Or dunque il fatto che oggi i migranti privi di diritti vengono sfruttati senza pietà e usati per fare appunto quei lavori che gli italiani non fanno o non facevano più, diventa di fatto un sordido argomento per imporre quelle condizioni anche agli italiani. In ciò emerge limpidamente la funzione di classe dell'immigrazione di massa, la quale si finge in superficie umanitaria e finalizzata all'integrazione, quando in concreto non è volta se non a produrre masse di supersfruttati senza diritti e senza coscienza di classe, che poi saranno inserite nei circuiti del supersfruttamento capitalistico, di fatto costringendo anche gli italiani, un tempo abituati ai diritti, ad adeguarsi al nuovo regime della produzione. Il capitalismo finge di amare i migranti, in realtà li odia, li utilizza come carne da macello, come strumenti mediante i quali abbassare le condizioni salariali di tutti e creare scontri orizzontali fra gli ultimi che ora si contrapporranno fra migranti autoctoni, abbandonando il terreno del conflitto di classe verticale tra servo e signore. Diciamolo ancora apertamente senza ambagi. Non è vero che vi sono lavori che gli italiani non vogliono più fare. È vero semmai che vi sono salari e condizioni che gli italiani non sono più disposti ad accettare. E non sono più disposti ad accettare in ragione del fatto che hanno conquistato, mediante la lotta, mediante il conflitto, una serie di condizioni di tutele che rientrano appieno nella civiltà e non possono essere smantellate in nome del vivere all'altezza di una realtà che ci chiede l'austerità, non possono essere smantellate in nome delle nuove leggi del liberismo cosmopolita. Ecco qual è il teorema ingannatorio e subdolo del vivere al di sopra delle proprie possibilità a cui saremmo stati avvezzi in passato. Teorema che in realtà nasconde l'obiettivo chiaramente di classe dell'elite turboglobalista. Quello di far passare per privilegi i diritti e di distruggere i diritti facendo passare quest'opera esiziale come una lotta contro i privilegi. Diciamolo apertamente dunque, l'immigrazione di massa serve unicamente al padronato cosmopolitico che la impiega contro la classe lavoratrice, sia migrante sia autonoma e autoctona, per imporre le proprie politiche di classe chiamate pudicamente globalizzazione dei mercati.